Signatore, come si fa a trovare il proprio sogno? Però prof, non mi prenda in giro. Cercalo. Come? Poni le domande giuste. Che vuol dire? Leggi, guarda, interessati, tutto con grande flancio, passione e studio. Poni una domanda a ognuna delle cose che ti colpiscono e appassionano e chiedi a ciascuna perché ti appassiona. Lì è la risposta al tuo sogno. Non sono i nostri umori che contano, ma i nostri amori. Allora, mi piaceva commentare.